RESIDENT EVIL 6 Piers Sir? What happened to Ayo Wong? You'll remember Captain? Where is she? She's leading Neo Umbrella All these terrorists Is she in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began Yeah, she's here Tell the men we're moving out Yes sir Cazzato Chris Mi sa che andiamo a caccia di vendetta Finne non è morto in vano Pure sì Ma tanto ci stava sulle palle a tutti e due quindi Sì Dove andiamo? No, guardavo c'era qualche simbolo magari C'è emblema Io già mi sento bloccato, danno abbiamo appena... Ah, giù, ok Sì, sì Non mi lasci indietro, capitano Ma è normale? Per pentone Ma a me sembra tipo invisibile Un'anaconda tipo No ma non capisco se era un mio bug o se era veramente... No, 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 si... C'è anche di noto trasparente Sempre più strani È quel film che fanno... Ogni cinque mesi si taglia uno, anaconda Ancora con questi film trash run Che poi l'ho visto quello Non era così terribile Cioè faceva uno schifo magari Visto adesso gli effetti speciali dell'anaconda Non sono... Eh... Granché diciamo Beh bisogna anche vedere di che anno è il film Bisogna sempre contestualizzare Come per un videogioco Troppo pignolo Eh Vole veloce però Ma quindi abbiamo davvero le munizioni Sì Della missione Sì perché io non c'ho nulla diciamo Ah qui c'è un'erba Che leggi le istruzioni Dan No no stavo mettendo insieme le erbe Allora qua un po' di cassa Però ci diano più munizioni Ci dobbiamo sconfiggere Oh guarda lì un emblema Visto Vediamo se riesco a prenderlo da qua Cavolo io sarei veramente tentato di fare una prova A giocare con mouse e tastiera Ma sarebbe un suicidio Addirittura No 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 Cioè sarebbe molto più comoda la mira ma Io gli spara tutto Diciamo Ormai lo definisco spara tutto sta roba In 3D Con mouse e tastiera Non mi trovo benissimo Ma per me è come un FPS Mouse e tastiera batte sempre Un joystick Ma qui non c'è bisogno di tutta quella precisione Sì questo è pure vero Non c'è più alla fine Posserò magari avversare i bagni Un altro discorso Sì eh Esattamente Poi metà di questi li ammazziamo con i pugni Questi sempre che non fanno niente Guardano e basta Esatto Non è più la stessa cosa con te però Con Elena era più bello E' tipo il culo quando salivi dalle scale Io vedevo tante belle cose in prima persona Oh? Cosa che è successo? Sono piovute schifezze Ecco che è successo Eh io adesso tu ti metti Io sono qui con la recluta Vabbè È forte Io ti guardo Sta morendo la recluta Anzi questo ha sparato Questi non parlano neanche Sono senza anima È salito? Sì sì Ok Ahia È scoppiata la testolina Questo mi sa Ancora vivo? A che? Questo si è aperto come una cozza Che schifo Eh sì Oh Hai capito col coltellino Poi sicuramente sì La L'epidemia che ha colpito il Cioè l'epidemia che c'era Nella prima campagna Con l'Iene è diversa da questa Sicuramente Sì questi Sì questi Gioavo sono Un po' diversi Esatto Ora potremmo dare anche un senso Alle evoluzioni di Simmons Cioè Considerato come si stanno evolvendo questi Avrà più senso che Simmons diventi Quel coso Questo è vero ma è comunque Un'evoluzione eccessiva Per me Quando vedo queste cose Ovviamente Però diciamo È un contesto diverso Perché prima li abbiamo fatti vedere Che comunque si mutano tutti Quello di lì o no Non c'era proprio il stesso contesto Siamo tipo degli zombie normali Esatto Sono vivi Sì 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 Hai capito Marco Ok Ma tu c'hai il cecchino È molto più comodo Io devo andare giù Mi sa Sì Io mi sa che resto qui Oh guarda qua Ma ci sono delle scatole più avanti Ci sono delle schifezze più avanti anche Ah sì Ho visto cose che è meglio che non ti racconto E non le vedo Non le guardo così Praticamente è una sorta di mantide religiosa Insettoide schifosa Ah ma quelli sono nostri Stavo sparando ai nostri Qualcosa mi ha colpito Ma l'elicottero sta sparando Sta sparando a me Sta sparando a noi Ah ma è la roba che c'è Ma non capisco Ah sono quei ragni attaccati sull'elicottero Ragni che? Ah sì Cazzaro la sparano Sì esatto A che livello può arrivare lo schifo umano Don Mi sono piovuti addosso Vabbè meglio No Dani No 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 Abbiamo un problema tecnico Don Pugno dalla vittoria Abbiamoci la pompa Da che ricarico Poi gli Ti spavano Cavolo Non male che questo non sa mirare Ok Ma il pitone scomparce invece Il pitone Ancora quei cosi Sono dei canguri Canguri? Gli affari con le gambe E i potenziate Hanno detto che sanno saltare bene Beh sì è vero Oh Comunque danno a me Molti dei filmati che si vedono Vanno tipo A fps Più bassi di 30 Lo percepisco con l'occhio Ah sì? Sì A te no? Non ce neanche va toccato Perché i video non c'è Perché fai? Chiudi gli occhi Quando ci sono i video Che vuol dire? Sì ma non c'è Non ci sono nemmeno Ci hanno accato ultimamente Perché c'è un video Che poi Ti dicono ben poco In realtà Capito però Io li guardo Nei che Oh Sì Cattroia i danni Però andano con me questi? Io gli sparo nella parte Insettosa Ma Ah ma c'è Qual è l'obiettivo danno A parte farsi male Ma dobbiamo difenderci Dal tubi Credo Io qua credo Perché Guarda questi due che non fanno Un cazzo Non arrivano un po' tanti Ma non erano tanti qua Ma in un colpo Infatti fuori due in un colpo Se riesco Dove stanno gli altri? Wow Quanto zompano Perché quello l'ho ucciso Con un colpo? Oppure In realtà dovremmo aiutare Quelli lì sotto Ma Noi non siamo messi meglio Ok Ne mancano due dann Ne manca uno Ah quelli lì sotto Anche Tu uccidi quelli sotto E ammazza quelli Io cerco di buttare giù Quelli che stanno sopra L'elicottero O quelli che mi capitano Ah che è avuto tutto il mio obiettivo Ma non ho capito Scappano e salgono di nuovo Sopra l'elicottero Quanto fare? Perché sono di nuovo Tutti e tre là sopra E poi tornano giù Ok vado uccidere E quello tu pensa Quello c'è l'elicottero Mi pensa a questi tre Che mi stanno venendo a trovare Questo si che è gioco di squadra L'elicottero E Il E' troppo facile, vieni, continui a riuscire Capitano, dovremmo escoltare questi due fuori da qui Non ci saranno mai vivere Stiamo a riuscire, andiamo Siamo a lanciare la porta, prepariamo Ehi, niente Comunque ho detto che sembrano dei grilli quei mostri Mi sa che quello è il nuovo addetto Esatto Non l'ho detto agli esplosivi Rimpiazzato subito Oh, guarda quanta roba, mi sa che c'è qualcosa Eh si Oppure ci danno le cose perché abbiamo già fatto un bel po' anche in realtà Cioè dovevamo difenderci per un bel po' di tempo Sì, è vero, potrebbero essere entrambe le cose Ah, un'arma Wow A quanto pare c'è anche uno spray Uh, lancia granate Granate Rimpiazzati per finire il lavoro Rimpiazzati Rimpiazzati Questa è esplosiva Come... come cambio? Triangolo quando hai la mira Come quando cambi la... lo stile di fuoco Mi sa Ehm... E dobbiamo spaccare Va bene van Va bene Dove hai fatto? Niente ho fatto scoppiare un coso Dove dobbiamo andare? Sto sparando all'elicottero Mi sa Sì, dobbiamo sparare all'elicottero Lancia granate Ma forse di qua si prosegue dopo Perché mi ricorda Metal Gear Solid sta cosa di sparare all'elicottero E quelle ocelot, infatti No, non era... Cos'ho Liquid Snake Sulla IND Nel 2 Nel 2 c'era anche nel primo Ah, io parlavo del primo Eh, del primo Nel primo Nel primo c'è Liquid Snake Sul... Ah, Liquid Snake Che stupido, si Ma non essere così cattivo con te stesso Danno No Cos'ho provato a sciabolarmi Porca troia resistente però l'elicottero Sì Capitano, non possiamo lasciare loro La missione è di terminare le B.O.W. Ma V.O. Umbrella è dopo questo Sì Sì La missione è di terminare le B.O.W. Sì 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 All'Anaconda Boa Pitone Serpente Aspide Quella? Sì ma No ma non capisco merda Ma si può morire così cosa L'hanno Gli ha succhiato tutto il sangue Tipo È tutto nero Il corpo del tipo Vabbè Dan è nero Perché c'ha La Il passamontagna Quello delle forze Speciali Tipo Ma è vero Qua in quattro A contemplare sto cadavere No ma merda Non si può morire così ha detto Cioè Vabbè Dan non critichiamo È anche messo bene il corpo Dico Pesso Sì vabbè Britta morte Dan Giochiamo a Mahjong Ora qua Dov'è Mahjong? Qua Oh full hd vedo Ci stai giocare? No Io sì Tanto tu vari sempre C'ho qui a tavola Quindi Mi fido Solo perché vinco Avete creato questa Eh avete creato questa Leggenda metropolitana Eh sì Non sono solo io Per dirlo Eh ma Non avete le prove Che io Bari Sì Ora ma scopriremo Prima o poi Come fai E mi metto il mitra pronto Ti metto il lancia granate Pochi cazzi Ma poche munizioni Le ho sparate tutte Contro 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 L'elicottero Atletico Contro la capriola Di scena Sì 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 Capitaino, aspettate! Die! What the hell were you thinking, pulling a kamikaze stunt like that? These are my men. You follow my leader, I'll find someone who will. Will, ti senti ancora? Scusa in linea, soldato Hai ascoltato il ragazzo, andiamo Dan, il potere ti sta dando alla testa Ma da quando è morto Finn, ha cambiato tutto Sì, ma dove stiamo andando? Sì, ma dove stiamo andando? Oh Keaton, non te anche! Rip Trovato niente? Ah No, non c'era nulla Trovo la morte fra qualche Topo, sparare al topo Ma vedo che qui l'igiene All'effetto traslucido tipo Non è andata bene A lui mica tanto, è andata bene Wow Fomentiamo gli spiriti Perchè non facciamo mai fare il lavoro pesante agli altri? Ecco perché Chiunque Rapportate Piers è qui, sono sul terzo luogo Capitano! Non posso trovare il chef Lì è morto Stai a guardarci Marco, dove sei? Secondo luogo Oh shit Credo che questa cosa è qui Il target è sul secondo luogo Andiamo da Marco Andiamo da Marco Ma io sto bene qua Allora se è sopra Non te ne frega niente Dei compagni di squadra Cercando semplicemente di sopravvivere Ah, è così che funziona la squadra Danni io sento i suoi sibili Eh, anche io, quindi Poi ci viene più di uno, ma non credo Nooo Spero di no Però è più forte il sibili Oh, è da me! Ah, ecco Qui mi servi tu Mi ha dato un morsettino a sedere No, devo aspettare a te che vieni qua Un attimo Prego, prego Puoi aprire? Ah, devo uscire io, non devi entrare tu? Eh, mi si, mi devo andare da questo Ah, sì, è vero C'hai ragione Oh Cavolo Ma in realtà non sembra che ci vale la pena sparare ora Eh, Marco è ancora vivo Chissà da quanto Oh, dov'è? Dov'è Marco? Ah, è dietro di noi Dobbiamo scendere ancora? Dai sì Siamo masochisti, vogliamo morire Dobbiamo dare la caccia Eh, rip Che c'è? Jeff! Era Jeff! Era quello che non sparava mai Poverino Era quello che sparava dritto È l'unico tipo Non vedo più Marco Non ci sta seguendo? Morirà del video, mi sa È l'unico tipo Che c'è? Che c'è? Che c'è? No! 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 Perché non hanno sparato subito? Ma i riflessi di un bradico Infatti Marco Comunque lo stavi per ammazzare tu Cioè gli hai portato sfiga Lo vediamo Forse con un accecante lo stordiamo E rimane fuori più a lungo Mi fa di no Mi ne frega niente Ma come fai a nascondersi Dov'è? Stato in mezzo Sparo a caso mi sta prendendo il panico Sopra Sprego munizioni Noi siamo così scemi da inseguirlo in questo spazio ristretto Tu vai aspetto Sto con Marco Che vado a morire Sono morto Ricordami come un soldato scemo Ma anche se fosse perché fare una cosa del genere? Siamo matti Non è così che parla Chris Redfield Eh beh io sto valutando la cosa Sono da solo in questa stanza Sono morto Oh grazie E' esploso un po' tutto l'universo Ho fatto benissimo Grazie C'è stato un quick time event da registrare tipo Che? No cioè si c'era il quick time ma alla fine hai fatto scoppiare tutto Oh se volete Oh se volete Sentito questo Prendo a pugni Come fa a sparire? C'è C'è voluto Ci sono bugi nel soffitto? No non dico come fa a diventare trasparente A volte proprio sparisce dalla stanza in maniera non giustificabile Mi hai fatto prendere un infarto Come fa a questo essere? Sto perdendo il senso degli avvenimenti Donna mi sto confondendo Si sta uscendo dal nulla Un po' come Spider-Man che si appende al nulla Cosa? Aiuto Spider-Man si appende al nulla? Spider-Man nei videogiochi tipo dei primi Mi piace uno Lanciavi la ragnata di reso il nulla Non mi aveva toccato Non ci ho mai giocato Si attaccava alle nuvole Alle nuvole esatto Marco non sta facendo un cazzo Dan Marco sta vivendo Allora Devo sopravvivere già tanto Guardalo Guardalo Dov'è che cosa c'ha? Oh Oh Quanta vita c'ha Cosa? Quanta vita c'ha Oh Magari ci fa più male A beccarla in bocca anche Non ci credo Ah è ancora vivo Wow bello come ricarica il lanciagranate Io non ho più Perché dove hai trovato i proiettivi del lanciagranate? No quelli che avevo ancora io non ne ho usati così tanti Prima Ah già Però è bellissimo come ha ricaricato Ci ha svuotato il tamburo Poi ha infilato due cartucce a due a due Ah bello Oh Mi sa che stavolta Marco ci muore E io non potevo schivarlo Che succede? Non mi fa muovere No Ho sbagliato direttamente Tantide ha sbagliato o qualcosa Nelle nostre opere non facendo nulla E noi dovremmo trovare qualcosa che potrà Ok Però Non faccio finire i video Quanto è qua che Te la fai? Io sto scappando per ora Come mi ha insegnato il mio capitano Oh oh Il capitano coraggioso Ho tirato una leva Dan Eh ma mi sa che Eh Marco I need power for this thing I'm on it Vabbè Vabbè Sarà sveluto spero Cavolo Perché dobbiamo Ok Uno deve attirarlo sull'elettricità All'alto preme Vado giù io allora Ok Dov'è che è la pozza Esatto Se non dovevi Mi sa che l'ho mancato Adesso bisogna aspettare Pensavo fosse già lì Ok Ora sappiamo dove è la pozza Dimmi quando è carica la cosa Che io continuo a sparargli Per ora è rossa Ok è carica Ok è qua è qua Dimmi tu quando Non è vero Mi hai mentito Volevo dirlo da tempo Perché sono più saporito Perché sono più saporito Allora tanto li prendo Più stavola Tanto qui basta sono Ok da me Ah no vabbè da te Forse perché mi vede qui sul pannello Ed è programmato Non capisco perché Ah sono a terra Eh devo venire su Forse sono al sicuro Vabbè non sprecarle Non c'è granata Perché mi sa che qui i danni Sono irrilevanti Sì è vero Oppure se li facciamo C'è un'arba rosso In fondo Vedo Sì danno Forse è meglio Se ci invertiamo i ruoli Perché io non mi sento qualificato Per questa impresa Ma che ca... Ok vuole te Allora sì è perfetto Portalo sulla pozza Eh ci provo No vabbè Ora vuole me Mi spintona troppo No ma non capisco Che schifo Ok danna Ti dico io quando Tanto salirà da me Eccolo Troppo tardi Oh no E siamo grandi Stelle filanti Non hai fatto niente A parte Nabbè Ha contribuito dai Scommetto che adesso muore In qualche modo Come si sale lì Che cavolo Ah Eh Marco ti aiuta Hai capito Marco Tu rimani giù tranquillo Prendo l'erba Eh no ti aiuta anche te Un po' di pasticche Addirittura È un po' arrabbiato Nooo Non è sicuro, non è sicuro qui. Dobbiamo uscire. Capitano! Stai cercando me, ragazzi? Benvenuti in Cina. Ada! Prendi, non abbiamo una scelta. Dobbiamo muovere. Puoi fare lo stesso per noi. Cosa? È diventato un alveare. Povero Marco. Comunque io ho detto no in anticipo, per così dire. Perché avevo ripensato al... Ma a che dovrei sparare, scusami? C'è un'app lì tangibile, cos'è? Non lo so, Dan. Ma io non l'avevo visto. Cioè, sparato a caso. Pure una donna. Cioè, se vedi... L'app è donna. Ma vedi, è sopra la silhouette di una donna l'app. Eh? Sì, è vero. Vabbè, siamo arrivati proprio a livelli paranormali, ridicoli. Eh? Adesso diventiamo noi fin, Dan. Con gli esplosivi. Wow. Dicevo, Dan, gli avevo detto no in anticipo perché... Mi sono ricordato del cadavere che c'era all'inizio della campagna con Leon... Cioè, nel prologo. Con Leon ed Elena dentro quell'edificio. C'era un soldato della BSA vicino a una finestra e mi sembrava la stessa stanza. Ah? Quindi mi sono detto... Ah, adesso quindi muore Marco e quel cadavere che vedi nel prologo è lui. Ah, invece no. Però c'è morto lo stesso, a quanto pare. Pearson ha molti sentimenti. Se ne ha fatto una ragione. Lei si sente anche più la responsabilità, capilano. After what she's done to us, how many of our men are dead because of that bitch? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't going to get us anywhere. If you hadn't been blinded by vengeance, we could have prevented some of those deaths. Shut up. Do you even care about our mission anymore? Shut up! I feel sorry for all the men that died believing in you. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? It's a good thing it fits out. I'm glad to see you this way. I'm going after Ada. HQ, this is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. I'm going with you. Someone's got to keep an eye on you. Whether you want them to or not. I'm going with you. I'm going with you. I've got a location for you. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. HQ to all teams. Target Ada Wong has been spotted heading south for the harbor. We want her alive. Puttana. Qual era la loro mission originale? Non era quella del palazzo di tirare fuori l'ostaggio, quella della prima missione? La loro... No, vabbè, loro sono venuti qui in Cina perché ha scoppiato il patatrack. Quindi loro sono qui per combattere le creature biologiche del bioterrorismo. Eh, done. Quello di quanto è il Chris che adesso è... Abbastanza impara con... Come è giusto comunque perché ovviamente sarà lei quella al centro di tutto. Chi? Cosa? No, mi hai perso qua. Non so, non dico lei. Cioè lui impara con... Che vuol dire impara? Eh, è preso diciamo. Ah, che dialetto è? Che gergo è? Che roba è? Non lo so. Come impara? Non vai che continuo a pensare solo a quello. Ah, ok, in quel senso impara. Cioè è in-para. Con Ada, ecco. Done. E ci sono un po' i cecchini. Sì, e sono più bravi di me. Poi dove l'ho ucciso con quella che... La cosa brutta di questo fucile è che dopo ogni colpo... Deve spellere la cartuccia a mano. Il fatto che si è preso da Ada non gli fa vedere tutta la roba ovviamente com'è. Sì, è... Vabbè, sarei... È annebbiato, accecato dalla sete di vendetta. Sì. Ma che due su due, cavolo, uguali. Oh, oh. Stanno arrivando i grilli. I grilli. Sì, effettivamente... Sì, l'avevano detto prima che sembravano dei grilli. Wow. Questo mi ha cecchinato a cinque metri di distanza. Ah, non le aimbot questi, attenzione. Sì, non gli trema la mano, a differenza mia. Mira il grillo, mira il grillo. Il grillo parlante. Ai, ai, ai. Oh, oh, ho trovato in piedi del grillo. Via, via, via. Ma quello si rialza? Io ho già sparato due colpi. No. L'ho sparato alla gambetta. Vediamo se si rialza. Eh, no. Prendo uno qua davanti, io devo prendere quello qua davanti. E muori, oh. Oh, non muore. Si trasforma in qualcosa. Si è grillizzato. E nel frattempo. Si trasforma. Ah, che spari? Ah. Ah, questo è trasformato. E si sta per trasformare. Pillolina. Occhio dietro l'anno. Si sta trasformando. Si sta trasformando. Esatto. Oh, andiamo via di rai da questo. Porti proiettili qualcosa. Però non è la strada giusta questa. Ah, non so più. Io lascio pure lì. Non so più da che parte scappare. Frami L1. Si, hai ragione. Ma, cavolo. Continuo a cambiarmi direzione. Vai, vai, vai. Non guardare. Così mi metti ancora più ansia. Tu continua a correre. Non guardare. Ricordo che abbiamo sempre questo mirino addosso. Mette un po' d'ansia. Si, è vero. Namu se ne è. Non credo sappia saltare qualcosa. Spero. Ma chi è diventato il capitano qua? Io? Non vedo una mazza. E saltare. Ma chi arriva primo? Ma chi sopravvive? No, ero in testa. Che è successo? Dai Ada. Sparagli. E non vale. Mi fai ostruzione. Potremmo anche evitare di uccidere. Si, si, infatti. No. Baccati qualche onda d'urto ora. Cavolo. Inciampato sul legno. Pierce è in testa nella maratona per la sopravvivenza. Fermati te l'ordine al tuo capitano. Ammutinamento. Vediamo cosa fai. Vabbè. Come li hai schivati. Mi sono allenato tutto l'anno per questa maratona. L'affare di Hercules. Il cartone della Disney. Quello di ghiaccio. Chi? Il titano? Il colosso di ghiaccio. Esatto. Come andiamo adesso? Cosa? Cosa? Ah, non vale. Ho visto una scala io allora. Vabbè. Porca troia. Abbazza l'elicottero. Eh sì, fine della corsa. C'è sempre il problema che non so come ci si mette in copertura. Allora. E vabbè questo qua è attacchi ninja. Oh oh. Esattito. Che cavolo no Dan. Devi mandarmi le istruzioni. Che schifo. Cosa? Su come ci si mette in copertura in questo gioco. Che altrimenti non c'ho munizioni delle... Ah ecco le ti ho appena trovate. Ci sono munizioni qui lanciaganate? Sì, stavo cercando. Vabbè io non posso vivere così. Dove sono le munizioni? Mi ha ingannato. Erano in un vaso. Adesso le nascondono pure nei vasi le munizioni. Vabbè Dan. Ok, l'importante è questo. Si possono avere cinque secondi di pace? Speriamo che ci sono munizioni qua dentro. Perché mi spunta? Ah sì. Per fare il figo sopra i tavoli cinesi. Qui c'erano lanciagranate infatti. Ah, i vasi. Ah, questi vasi. Della dinastia Ming. Noi ce ne fottiamo proprio dal valore. Erano anche preziosi ma... Le granate un po' di più in queste circostanze mi so. Poi sono anche a casa Ada. Ma quindi ci sono diversi tipi di munizioni granate? Per io sì, ma per ora ne abbiamo uno solo. Cioè io solo ho quelli esplosivi. Io pure, credo. A proposito. Oh, graffetto. Devo usarla io. Capitano sta diventando vecchio. Vabbè, ma ci sono quelli piccoli. Ah, mi sa che stiamo per incontrare l'Ion allora. Eh, lo penso anch'io. È il tuo momento della granata, Dan. Eh, ma io scherzavo. Ok, lei è tu, perfetto. I versi che fanno. Perfetto. Sì, ma io ancora non ho capito perché scoppiano come dei fuochi d'artificio cinesi. Il virus a quanto pare. Sì, è il virus che ti trasforma in un petardo, ho capito. Eh, il rischio. Diventi un mestione, ma... L'effetto collaterale. Un tatto coi proiettili. Credo che questo è dove hanno stato sviluppato il virus C? Edda? 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 Non puoi correre per sempre Alpha Team HQ, venite, siamo in procurazione di Ada Wong Non uso di scendere, Ada Abbiamo capito che ovviamente ci sono due Ada Sì, sì, sì Ma comunque non si sa perché hanno creato una seconda Ada Secondo me Quello non sappiamo Ci sono Leon ed Elena Siamo noi, quelli siamo noi Eravamo Puttana Vabbè Veramente Ci hanno fottuto il posto Ci siamo fottuti il posto, Dan Ah, non sono Mamma mia, mazza Vabbè, sei ancora vivo Ci sono le scale Aspetta Io ho due spray medici, Dan Ah, usone uno, dai Ma siamo entrambi full vita Aspetta, però è vero A me mancano tre tacche Vai, vai Che buono Poi era un piano, vabbè Anche qui c'è lo stanzino Ok, che palle Faccio io Facciamo come è andata Magari a noi ci tocca un minigioco diverso Di no Vedremo Sì, che metti le scatole così In mezzo alla stanza Guarda, Dan Quella sono io Quella sono io E in questo caso Se tipo fossimo online Cioè, in un privato Potrebbero vedere altri giocatori Che giocano in quel momento No, stai trollando No, te lo giuro Wow Quando si gioca in quattro A volte si incrociano le cose Però Parliamo di quando il gioco era uscito Perché ora non credo Ti sia tanta gente Ah, sta cosa non la sapevo Ah, ahia Sono già morto Che vuoi fare? Disinnescare? Eh, ma Cioè, è dell'altro Eranica Anche ci diceva come fare Qui vediamo cosa ci dicono Qui Ci sto pensando io, mi so Sì Ho tirato fuori un piede di porco Dal nulla Ha detto Continua a guardare anche Perché Ok E se è fatto Eh, ora non posso salvarti però Ma sono più resistenti questi E che cavolo Quanti ce ne stanno? Oh, e va Più di così non ne possono fisicamente mettere Infatti Oh, io ho finito Ok Andata bene Quanti ce ne sono andavano Ma questi non andavano Tipo distrutti Era più facile Tipo fargli esplodere A mano Oh, guarda anche qua Sono lì Punticini Punti inutili E quindi Adi qua Ehi che Oh Ho agitato Ho visto Ada Che farò già col lanciarazzi Perché No, aspetta Non andiamo d'accordo qua Cioè io le sparo Tu mi dici Giuliarmi Quando tu sei quello Che la vuole ammazzare Le sto sparando Ma non c'è nulla Ho sparato nel sedere Io ho lanciato Ehm, ragazzo Non lo perdite Non lo perdite Non lo perdite Io non lo perdite Non lo perdite Ada Un amico mi piace Se non lo perdite Ha sempre stato così There she is Cut her off I've got her Chris? Leon? What are you doing here? Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! No, it wasn't her. It was Simmons, the National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people! Including the President because of Simmons. She's working for Neo Umbrella. You know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am. Captain! Freeze! Damn it! Helena! He's going to kill her! Chris, wait! We both want the same thing here. Alright. BSAA will handle Lena. You take care of Simmons. Chris! I know you'll do the right thing. She's making a break for the harbor. Get in! Hey, Pierce. What you said about me hiding from my past. You were right. Captain. Can I jump to her? I won't stop until I do. You're right. I'm going to attack you. You may do the right thing. You might attack me, but... This is Pierce Nibbets. Stiamo inseguendo Ada Ah devo guidare? Ma io non so guidare Ma accelero? Ah ok c'ho il nostro tipo Ci sto provando Dan ma non è semplice come sembra Vai Aiuto Sì ma sta jeep è truccata Fast and Furious Vabbè a 400 metri come la ripeschiamo Oh E tu che fai in tutto questo Dan? Eh ma mi sa che dovremmo essere più vicini e dovrei sparare a qualcosa Ah no Oh Ma che Ma che Ma che Io continuo a guidare Dan Oh Quello va contro mano No aspetta forse ero io Oh Eh non è colpa mia era contro mano Non so pure queste altre jeep Oh grande Sei stato tu? Sì sì sto sparando alle jeep anche perché Oh oh Ma questa non è una jeep nemica vabbè Tu spara per sicurezza La macchina è sbucata Eh lo so Ti faccio venire nel mall d'auto No ma si vede abbastanza bene la finita sopra Cavolo Sei il miglior autista vedo Eh ma Eh ma quella curva è sbucata all'improvviso Perché dopo i miei precedenti con gli aerei e le elicotterie Eh effettivamente Però la macchina dovrebbe essere più facile Ma io non capisco il senso di marcia in questa strada Cioè proprio a puttane mi sa eh Siamo a contromano Sì ma io vedo macchine contromano In entrambe le corsie In Ciglia si guida un po' come si vuole alla fine Need for speed Ridge Racer Gran Turismo Ahia Non so più quali giochi di corsa nominare Eh Tocca Che? Tocca Race Driver Mi hai giocato No Adesso è uno Ecco Fai un let's play ora Bella macchina che c'ha Dove ha la Porsche parcheggiata fuori Sì anche in V invincibile con la Porsche Ho sparato quanti quei proiettili Madonna Pensa alla mia reazione appena ho visto qualcosa Ah magari non in curva Eh sì è stata una brutta idea usare il turbo lì chiedo scusa Io c'ho questo No questo capitolo dura tanto Oh cavolo C'ho questo perenne tutorial sotto Ah non c'è più la distanza adesso Che fa? Parcheggiamo qui Dan? Ci andiamo a fare un giretto? Eh boh Non vedo nulla Vanno è tutto buio Tu segui la strada Ma non la vedo Sali in cima Ok Sali lì Ecco Mi guidi tu sparando Oh Ciao C'è anche un medaglione là Ah prendo il medaglione prima aspetta Non riesco a prenderlo Prendo te No manco io con lo Con il cecchino Ok lo ho preso Non ha più vita la macchina però Tutto per il medaglione Eravamo noi quelli Ah aveva una vita la macchina Sì in basso a destra Cazzo ero troppo preso dal medaglione Ma no ma è scomodo in realtà mirare Non è proprio il massimo Perché c'è il mirino e basta Centrale Ma dobbiamo riprenderlo il medaglione? Senza facciamo dopo Dan Io sparo qui tutti i tizi col bazooka Prima mi sa Tanti No è il medaglione Eh sti cazzi Dan Non muoverti Vai E dai so fermo Dan Io non l'ho preso E non c'è più il mirino ora vai Ma io non lo posso prendere E vabbè Sti cazzi E farai una ragione Sì non me ne frega niente Dove vado? Continuo a salire? Sì sì Ma quanto è alta sta torre? Quattro piani Abbiamo sua ragione Non ho detto nulla Turbo Usciamo dal palazzo Ma come? Ah da un'era salita qua Ah boh Tu mi fai cagare a guidare Faccio vedere io come si guida Ecco E iniziamo bene Ah non si può mirare Perché è sfondato Il vetro Dan Ah boh Dan aspetta Io scendo alla prossima fermata Mi vedo ogni time No no Guarda che la piglia Guarda che taglia la strada Forse la sensibilità è troppo alta Eh lo so Infatti anche io mi trovo Ma luce Oh merda Voglio scendere Oh Cavolo E neanche troppa vita Stiamo girando tutta la cina A bordo di sta cosa Sto cercando un momento giusto per usare Sto cercando un momento giusto per vomitare io Ma mi sa che Ada non la posso colpire Ci dobbiamo solo inseguirla finché non Anche a me Non finisce sta sequenza Oh ma quanto è lunga sta curva Guardi dai Ma dan sto cosa è per scena Non si può beccare neanche un elefante Sto cercando questo coso Oh e vabbè Quanti ragazzi sono arrivati Anni io non vedo Siamo contro mano Sì ma spero che ti sia buono Che saranno lì Ah no non ce l'ho Lo stanno facendo Lo so vanno Mi so sparo E viviamo prima di lei Ma sembra che i miei proiettivi non facciamo nulla Sto sparando chicchi di riso Ma dietro c'è qualcosa Perché sento Ah è sento che si spavano da qualche parte Non posso girarmi più di così Oh Cristo Scusi Messo Suona il clacson andando Siamo arrivati Ok ecco Quella grandissima puttana Oh ritorniamo con la precisione E' migliore la mia Vabbè Ah che bello Era perché sennò Ti venivano I complessi Già che hai perso Talla squadra Fin Se ti faccio prendere un voto più basso Poi Povero Chris Comunque ad è una puttana E' abbastanza